Il medico Questa che cos'è? Senta, io sono un chirurgo estetico Ecco, io potrei veramente fare qualcosa per sua moglie, magari Così lei è un dottore Un dottore verrà a Pietra Mezzana Abbiamo un mese per convincere il dottore a firmare un contratto a tempo prolungato Dobbiamo far innamorare Gianluca Terragni di Pietra Mezzana! Tenetevi forte, eh? Perché è pericoloso Questo è il suo profilo Facebook E' appassionato di cricket Il cricket è uno sport Ce la possiamo fare E' facile Vabbè, poi alle divise ci pensiamo dopo, possiamo migliorare Senti, com'è il paese? Oh, un buco in culo al mondo Volevo dire che è un posto delizioso, ecco Addio Granada Incredibile, oh! Tutti i giorni trovo cinque euro Ma veramente Comunque il vostro piano mi fa schifo E' pratica Emergenza! Tutti al matto! It's not the cricket! Ah, questa se ci va di culo e siamo fortunati Dura anche cinque ore Sai cosa mi andrebbe adesso? Un sushi e sashimi sotto casa E la vedo dura, amore Buonasera Salve Cosa avete da mangiare? Sushi e sashimi Si Cosa 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 Grazie a tutti.